La prima difficoltà ce l'ho nel fare la convocazione, quindi questo vi fa capire quanto in questo momento la squadra sta bene, in quanto tutti mi danno delle grandi garanzie, perché già nel fare i 20 vado in difficoltà. Sì, abbiamo lavorato molto, siamo andati anche un po' contro, forse è la prima settimana in cui abbiamo lavorato su campi pesanti, però era necessario caricare un po' di più, spingere un po' di più, perché avevamo una settimana lunga, due allenamenti in più e quindi li abbiamo utilizzati, perché comunque sapete quanto per me è importante la condizione fisica, adesso la squadra sta bene, però dobbiamo mantenere questo standard prestativo e quindi c'è da lavorare. Sicuramente il tecnico ha dato molto alla squadra, ci sono due giocatori straordinari che forse andrebbero interdetti per la categoria, perché sono uomini che arrivano sempre tutte e due in doppia cifra, però non c'è solo questo, c'è una squadra che ha Val di Fiori, lo stesso Croce, è un giocatore che è un fedelissimo di Moro, Verdi, Cerelli, insomma è una squadra che ha un tasso tecnico importante. Aumenta che abbiamo un risentimento, domani rientra nel gruppo, però ecco ripeto c'è Antonio Aquilanti che sta bene, insomma quindi noi insomma... Su De Gaulle? De Gaulle rientra, credo abbia giocato oggi pomeriggio, sta rientrando, domani verrà via con noi, poi valutiamo ora, ora devo vedere anche se ha giocato, quanto non ho già fatto, non lo so ancora. Nella classifica sì, nei valori è chiaro che non è una sfida in questo senso, ma noi l'accettiamo, anzi noi... Io ho cercato sempre di trasferire la squadra a coraggio, convinzione, però sempre grande rispetto e umiltà, quindi noi sappiamo che andiamo a trovare una squadra che ha sfiorato la Serie A, che ha mantenuto molto e quindi sarà per noi un bel test, ripeto.